Forza Italia Alessandria si è riunita alla taglieria del pelo per presentare 32 candidati della sua lista che parteciperà alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno a sostegno del candidato sindaco della Lega ma sostenuto da tutto il centro-destra unito Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Tra le varie informazioni diffuse durante la conferenza stampa a colpire è stato l'annuncio che Silvio Berlusconi arriverà ad Alessandria il 4 giugno per partecipare ad una convention intitolata l'Italia del futuro. Alla serata erano presenti il coordinatore regionale parlamentare Paolo Zangrillo oltre al parlamentare Paolo Rosso al coordinatore provinciale Ugo Cavallera. A presentare la lista è stato il coordinatore commissario per la città di Alessandria di Forza Italia Davide Buzzilanghi. Oltre alla lista dei 32 nomi sono stati ribaditi i temi principali del programma elettorale. Tra gli interventi a sostegno della lista Forza Italia per Cuttica sindaco c'è stato quello dell'ex assessore Paolo Borasio che ha voluto ringraziare il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco per aver contribuito a rendere migliore la città in questi suoi cinque anni di governo. Parecchie le personalità presenti politiche in rappresentanza dei partiti e delle liste che compongono la coalizione di centrodestra che sostiene unita il candidato a sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco.